Buongiorno a tutti, siamo qui ancora una volta con i nostri webinar Heidelberg per la sezione Academy, in questo caso per quanto riguarda il glaucoma, c'è qui con noi il dottor Michelesi che saluto come sempre, si occuperà della nostra parte clinica, mentre io farò come sempre un'introduzione più legata al prodotto e la componente tecnica che andiamo ad utilizzare per la nostra diagnostica. Direi che possiamo partire innanzitutto con la presentazione, come sempre un piccolo reminder legato ai nostri appuntamenti, siamo alla giornata numero 4, dopo di questa abbiamo visto che ci sarà l'aggiunta che completa il nostro Walleye Italian Academy legata al nuovo strumento anterior, per il segmento anteriore e ora invece ci occupiamo della seconda parte del compost puzzle per il glaucoma. Dunque, come detto, la piattaforma Spectralis, tendo sempre a ripeterlo per dare un'idea generale a tutti, ho visto che ci sono molti di voi che hanno assistito alla prima parte di questo webinar, questa è la seconda, quindi la evolviamo un po', la evolviamo dicendo che è una piattaforma multimodale, che è una piattaforma per reti nel glaucoma, angiografica, angiocity e quant'altro in tutte le sue forme, è una piattaforma interconnessa anche con l'HRT, anche con il nuovo Anterion, con un software che ci consente un'analisi di imaging completa di tutto l'occhio in questo momento. Per quanto riguarda il glaucoma si parte da un concetto basico tecnologico che si lega molto alla struttura, quindi noi vediamo che in particolare il pacchetto glaucoma premium, che è quello che andremo maggiormente ad enfatizzare piuttosto che il pacchetto glaucoma standard sempre disponibile, ci consente un'analisi in primo step su nervo ottico, quindi con un pattern di scansione molto dettagliato, sono 24 scansioni radiali sul nervo che intersecano 48 punti dell'apertura della membrana di Brook e ci danno, come vediamo qua in basso, un disc margin, quindi un'idea di quello che è il nostro disco da un punto di vista anatomico e ci consentono di fare un'analisi della rima, successivamente nella stessa scansione possiamo analizzare tre circo scan RNFL, volta scorsa il dottor Rodone ha inserito un argomento molto interessante sull'analisi, sul tipo di analisi, su come utilizzare queste circo scan, vi invito nel caso sul nostro canale YouTube di Fimas, SRL, oftalmologia ad andare a rivederlo se avete perso qualche passaggio e ovviamente successivamente ci si va a spostare su quello che è l'ambito della macula e quindi l'ambito dell'analisi di tutto lo spessore retinico, delle fibre nervose, del plesso ganglionare, del plesso plessiforme interno e ora in aggiunta abbiamo anche una mappa di deviazione standard con database normativo. Dunque, le prime basi tecniche che vanno evidenziate sono innanzitutto che Heidelberg usa una definita true circle scan, cioè una vera e propria scansione circolare, tutti gli altri strumenti e dico tutti gli altri perché è un'eccezione, un'unicità di Heidelberg che utilizzano una scan volumetrica dalla quale ricavano dei punti che sono un massimo di 485 mentre Heidelberg può arrivare addirittura a 1526 dove si genera un tracciato con ovviamente un numero inferiore di informazioni ma anche molto più, come vediamo qua in basso a destra, quasi più filiforme, più omogeneo mentre quello di Heidelberg è più frastagliato, ma è più frastagliato perché ogni punto è analizzato nel dettaglio quindi ogni punto crea un punto della linea nera che vediamo quella del nostro paziente sul nostro database. Importante da sapere è che non essendo una proiezione di una linea ma una proiezione di un cerchio, in realtà la proiezione di un cerchio crea la forma di un cono se noi abbiamo una curvatura corneale particolare, come può essere un gap di oltre 1.5 mm sia in più che in meno, la proiezione del nostro cono, quindi del nostro cerchio non sarà nella posizione corretta, pertanto la macchina ci dà sempre un alert prima di iniziare e questo alert ci consente eventualmente di correggere in caso di keratocon, in caso di particolarità strutturali a livello oculare, di correggerla e fare in modo che la nostra circoscana, quindi la proiezione di questo cerchio sia sempre nella posizione più giusta. L'altra peculiarità è come analizzare diciamo il database di questa circoscana con più informazioni in realtà il tipo di analisi è molto semplice, noi abbiamo semplicemente il vantaggio di poter avere un'immagine centrale, quella del difetto focale, molto più facilmente anche un minimo difetto focale piuttosto che una perdita diffusa. La True Circo Scan Tripla ci consente di usare tre database RNFL e ci fa vedere come, in questo caso abbiamo un esempio, abbiamo forzato il software con una curvatura corneale da 9.2 mm, 7.7 che è lo standard di partenza, è 6.2 dove nel nostro caso la 9.2 mm è quella corretta e ci sono ben in totale 15 micron in differenza di gap tra un'analisi e l'altra sulla stessa papilla. L'altro punto focale di questo software è l'aggiunta all'eye tracking attivo dell'APS che sta per Anatomic Positioning System. L'APS è un pre-software che parte prima dell'acquisizione e individua automaticamente o anche con correzione manuale la fovea e il centro del nervo ottico basandosi su quattro punti dell'apertura della membrana di Brucchi in modo tale da creare un asse fisso al quale si lega l'acquisizione. Questo asse è quello che ci consentirà di allineare i dati percepiti dalla macchina in misurazione al nostro database normativo, pertanto non rischiamo mai di shiftare un settore che per un tilting può essere visto nel settore temporale piuttosto che nel settore temporale inferiore e abbiamo una correzione sull'asse fovea, centro del nervo definito Fodi, che è sempre attivo. Di conseguenza bisogna andare a spiegare qual è il discorso dell'individuazione della membrana di Brucchi perché in passato ci sono fatti molti tentativi per dare un connotato più oggettivo possibile a questo tipo di analisi. Il dottor Chawan, che è stato uno dei fondatori di questo software, ha optato per un'idea abbastanza innovativa visto che la qualità dell'OCT consente di individuare molto facilmente e in praticamente tutte le condizioni il punto di apertura della membrana di Brucchi, che viene definito qui in rosso BMO, Bruc Membrane Opening, questo punto viene interconnesso con la minima alla limitante interna questo vuol dire che punta ad analizzare quelli che sono i primi fasci di fibre che si presentano in uscita dal cavo ottico. La scansione radiale fatta sul nervo è 24 scansioni come detto ed è creata in modo tale da coprire tutti i gradi, quindi tutto l'andamento del nervo e ci dà un'analisi completa sia a livello visivo strutturale sia a livello di analisi. In breve, questo è uno schema di reminder per andare a visualizzare al meglio possibile una corretta acquisizione eseguita con l'analisi della Bruc Membrane. Quindi il nostro connotato del minimum rim width, quindi BMO MRW, ci dà un suo database specifico, quindi un database specifico per la rima, è leggermente differenziato rispetto a quello dell'RNFL dove l'RNFL è connotato dalla classica doppia gobba, mentre questa qui è più una doppia onda, è un po' più sinuoso, però il principio è sempre uguale, si ha la linea nera che è la linea dell'andamento del nostro paziente, il verde, il giallo e il rosso per le direttive del database di normalità borderline e out of line e una linea verde intermedia nella zona di normalità che è la media di normalità del nostro database. La macchina ci consente anche di visualizzare molto facilmente, qui vediamo a destra, dei punti di analisi e di valutazione singola e ovviamente il discorso legato all'andamento del database, come vedete qui a sinistra, c'è la parte legata a micro e macro papilla e tutti i possibili andamenti di danno che può avere una rima più o meno patologica. L'altra cosa che è importante individuare per completare un'analisi ben fatta è la lettura dei settori di Greywood Head. Questa lettura per Heidelberg è un pochino più dettagliata perché oltre a avere l'indicazione, oltre a avere in questo caso un valore che sembra molto alto per l'RFL ma è riferito all'MRW, quindi è il valore di spessore medio di quel settore, si ha un valore percentuale, è un percentile che ci indica il grado di qualità della nostra misurazione, nel senso lui ci dice che su un valore di 298 micron nel nostro database il 40% delle persone inserite ha quel valore uguale o superiore, quindi più è bassa la percentuale più ci avviciniamo al rischio patologico. Ci spostiamo ora come detto su il completamento dell'analisi che va a guardare un punto che sta diventando sempre più focale per l'analisi del glaucoma che è la macula, quindi tutto quello che sono le fibre nervose, ganglionari e gli strati che ci interessano di competenza non più del nervose, del bordo per i papiri, ma proprio della macula vera e propria. La scansione disponibile che sia verticale o orizzontale si chiama posterior pole, è una scansione a 61 scan con un buon art molto rapida, ha sempre l'APS attivo, quindi anche questa scansione segue l'andamento fovea to disk automatico e come vedete può essere segmentata, ci consente un multi-imaging per il glaucoma perché ci consente una corrispondenza strutturale con un campo visivo, ci consente di guardare mappe a colore e a calore, abbiamo sempre uno ct strutturale di riferimento, abbiamo la possibilità di andare a leggere le asimmetrie per settori sia sul piano verticale che quello orizzontale e adesso come vedete qua in bassa a sinistra ha anche una correlazione in questo momento soltanto a livello visivo puntiforme con l'UD report, quindi con quello che UD ha rielaborato a livello di rapporto struttura funzione, quindi pattern di un campo visivo che sia un 24-2, un 10-2, rapportati alle nostre mappe o di spessore retinico o di spessore delle cellule ganglionari o plessiforme o quant'altro. Dicevamo che questo tipo di analisi è un'analisi che ci dà tantissime possibilità perché è sostanzialmente una scansione volumetrica del polo posteriore con un campo di 30 gradi, con 61 ct, con ct strutturali che ci dà una mappa di spessore, una thickness map retinica classica e TDRS utilizzabile anche per una valutazione di connotato retinico e ci dà una mappa che è definita posterior pole in grado di aiutarci a leggere sia a livello retinico che dei suoi strati le asimmetrie. C'è sulla parte di destra un piccolo disegno che ci aiuta a capire come va valutata un andamento a colore, quindi il rapporto di scala colorimetrica che ci dà la mappa a livello di asimmetrie va valutato come se fosse una forma quasi della testa di un pesce, se questa è mantenuta ovviamente il nostro screening va oltre, se invece vediamo che ci sono alcuni settori che possano essere dalleggiati, lo studio topografico che stiamo facendo va approfondito andando ad analizzare meglio i settori di strati sottostanti. Questa è poi l'elaborazione molto più semplice che avete sempre a disposizione, quindi una lettura emisferica di asimmetria dove le scale di grigio ci indicano come vedete il difetto di banda che c'è inferiormente, ci indicano quali sono i gap differenziali tra l'aspetto del piano superiore e quello inferiore e anche in casi di un danno più lieve, quindi meno marcato, ci consente di avere un alert che ci dà un passo in più per l'analisi. Ovviamente la perdita diffusa è già uno step successivo, quindi in caso di perdita diffusa noi la simmetria non la andiamo a percepire così bene, la percepiamo con scale di grigio molto meno marcate perché siamo già uno step successivo. Arriviamo all'ultima aggiunta del software che è la deviation map, la deviation map è una mappa di deviazione standard inserita da un annetto a questa parte, come vedete qua nel layout che è quello che effettivamente si vede con il software, voi avete sulla parte sinistra lo CT in basso e sopra la classica mappa di spessore con la scala colorimetrica che conosciamo tutti, semplicemente è stata leggermente riaggiornata con una gamma di colori più adatta a degli strati più sottili. La parte centrale in verde con il viola che vedete è la totale mappa di deviazione standard interna dello strumento, quindi la mappa verde ci consente un'analisi di raffronto con un database interno di spessore e invece di avere una scala colorimetrica avete degli alert a colore con i gap in micron che trovate sulla destra. L'area centrale marchiata dal grafico, dal diagramma torta, quella invece è quella che fa la corrispondenza con il database normativo internazionale, l'European Dash nel 2014, quello utilizzato da tutti quanti i software, semplicemente Heidelberg avendo un discernimento superiore rispetto ad altre macchine ha fatto un lavoro per il quale è riuscita a dividere nettamente i database, quindi non accomunarli con ganglionari più plessiforme o RNFL più ganglionari più plessiforme, ma ha due database specifici per il ganglionare e per il plessiforme. L'RNFL internazionalmente singolo non esiste, quindi la mappa RNFL della deviazione standard avrà solo la mappa di deviazione standard, non il database anche perché centralmente nella zona analizzata le fibre nervose non sono sostanzialmente presenti. Sulla destra invece avete sempre comunque un riferimento retinico con database normativo, quindi questo è per ricapitolare quanto. Vediamo quindi, la prima mappa che vediamo qui è quella RNFL, come detto l'unica differenza è che il diagramma torta è bianco perché non si ha riferimento normativo e poi ganglionare e plessiforme. Ovviamente in tutti i casi l'altro punto focale di questo software è la progressione. La progressione per Heidelberg è un follow up automatizzato con un gap di 1.3 micron tra una scansione e l'altra, ma è anche un andamento continuo in analisi con un grafico, con un grafico che ci dice oltre alla situazione dove il nostro paziente in quel momento ci può dire anche dove andrà, perché questo grafico al quinto esame attiva questa linea, quindi questo p-value e questo slope. In questo caso stiamo vedendo un grafico sempre legato all'MRW, ma questo grafico è valido per la RIMA e per i tre, per le tre circle scan e se guardate in basso a destra c'è la nostra diagramma torta, se si clicca su generale il grafico è per il generale, però può essere anche sottosettorializzato per il temporale, temporale superiore e quant'altro. La cosa molto interessante qual è? È che ci dà un'idea di andamento del nostro paziente nel tempo e ci dice anche una cosa sempre molto spesso tralasciata, ci fa vedere la linea verde qua al centro della schermata è la linea della media della normalità, però la linea della media della normalità è inclinata verso il basso perché è in discesa rispetto all'andamento dell'età del paziente, ciò significa che un nostro paziente anche sano nel tempo comunque andrà a perdere spessore. Questo è quanto, lascio molto volentieri la parola a... e così da partire con la parte più pregnante del tutto che è quella clinica. Sì, buongiorno a tutti, grazie a Michele, vediamo di far partire la condivisione. Spero si veda. Sì, ci sento, lo confermo. Perfetto, perfetto. Ok, grazie dicevo per la presentazione, grazie per questa introduzione che sarà molto molto utile anche per la mia chiacchierata nella prossima ora. Oggi parleremo con me soprattutto di un aspetto più pratico dell'utilizzo dell'OCT nel glaucoma. Abbiamo visto con il seminario del dottor Oddone e la tua introduzione quali sono le potenzialità che l'OCT ci offre, quali sono i protocolli di scansione, quali sono i dettagli e tutte quelle informazioni che noi possiamo ottenere da questo strumento di imaging. Oggi vedremo come provare a trasferire queste potenzialità e tutte queste informazioni nella pratica clinica, cercando di volta in volta di rispondere ad alcune domande che sono quelle che vengono maggiormente dibattute, che frequentemente facciamo e ci sentiamo fare. Il problema fondamentale, infatti, secondo me, con questo sviluppo tecnologico è che tutte queste informazioni che noi sappiamo e di cui tu hai in maniera brillante illustrato, devono diventare una risorsa. Dobbiamo fare in modo che queste informazioni realmente si trasformino in un miglioramento della nostra attività clinica piuttosto che in un motivo di confusione, perché non sappiamo bene come interpretare, come integrare tutte le informazioni che abbiamo. L'unico modo per rispondere in maniera positiva a questo problema è quello di conoscere al meglio le varie componenti e lo utilizzo. Tanto per capire di cosa stiamo parlando, una rapida ricerca su Medline di OCT e Glacoma qualche settimana fa riportava 8.749 studi pubblicati su PubMed e quindi siamo di fronte ad una quantità enorme, non solo di studi, quindi di informazioni che ci dicono come in qualche modo l'OCT è stato studiato nei pazienti glacomatosi, una quantità di dati impressionante potete dire. Oggi cercheremo di valutare e di capire e di provare a capire quale debba essere l'utilizzo dei dati dell'OCT per la diagnosi di glacoma, come utilizzare al meglio i dati dell'OCT per gestire la progressione, quindi per la gestione del paziente glacomatoso e in fin dei conti di chi, come e quando eseguire le scansioni OCT. In generale io penso che quando parliamo di glaucoma, di diagnosi di glaucoma, il nostro approccio nella gestione dell'OCT debba essere un approccio bayesiano. Qui vedete l'algoritmo che probabilmente molti di voi conoscono relativo alla target pressure della società europea del glaucoma, per cui una serie di variabili vengono prese in considerazione, al modificarsi di queste variabili la target pressure è più alta o più bassa. Ecco, io ho pensato alla valutazione della glaucoma, alla diagnosi di glaucoma con un algoritmo simile, per cui noi abbiamo una probabilità di malattia che può essere più alta o più bassa, a seconda di come variabili, di alcune variabili possono modificarsi e tra queste variabili, accanto alla pressione, alla storia del paziente, all'aspetto del discontinuo, noi dobbiamo mettere anche l'OCT, quindi l'utilizzo dell'OCT come un ulteriore elemento che ci aumenta o diminuisce la probabilità della nostra malattia. Quindi un approccio che da un punto di vista statistico può essere considerato bayesiano, per cui noi abbiamo una probabilità prima del test della patologia, eseguiamo il nostro test e in base ai risultati del test modifichiamo la probabilità a posteriori. Questo approccio che può sembrare molto troppo logico, molto rigido, in realtà è quello che noi facciamo sempre, ogni volta che eseguiamo un test diagnostico. Facciamo il test diagnostico e modifichiamo la nostra idea di malattia in base al risultato. Perché dico questo? Perché estresso questo concetto? Perché la chiave, a mio avviso, per interpretare al meglio questo strumento di imaging è già a priori, già prima di eseguire il risultato, quale sarà il nostro cambiamento d'approccio nei confronti del paziente che ho davanti a seconda dei risultati che otterrò. Se l'OCT mi dice una cosa, probabilmente vado in una certa direzione di pensiero. Se me ne dice un'altra, cambio idea. Il peggior approccio possibile, al contrario, è quello di pensare di accumulare tutte le informazioni possibili, tutti gli strumenti diagnostici che ho a mia disposizione, tutte le scansioni che la macchina mi mette a disposizione, per poi decidere a posteriori, in base a quello che mi dice, come devo interpretare. Qui mi dà un settore fuori, lì mi dà un settore normale, mi fido più di questo settore piuttosto che dell'altro. Quando parliamo di OCT e di diagnosi di clacoma, fondamentalmente dobbiamo tenere in considerazione tre aspetti. Il primo è la capacità dell'OCT di fornire delle misurazioni oggettive, quantitative che complementano l'esame oculare. L'altro è quello di permetterci di identificare la patologia, possibilmente in un stadio precoce della stessa. L'altra è la capacità dell'OCT di essere predittivo per quelli che saranno in futuro i danni funzionali. Il primo aspetto che volevo valutare è quello relativo alle capacità di complementazione, di supplementazione dell'esame completo. Ciò che ci dicono linee guida, infatti, è che gli strumenti OCT forniscono delle informazioni quantitative che integrano l'esame completo della testa del nervo ottico. Per cui lo stesso concetto viene ribadito anche nella ultima edizione delle linee guida della Società Europea del Glaucoma, queste che non sono state ancora pubblicate, ma questi sono alcuni dei contenuti che troveremo dentro, ovvero che l'interpretazione dei risultati dell'OCT deve essere obbligatoriamente eseguita nel contesto di tutti i dati clinici. Eseguire diagnosi solo sull'OCT va evitato e il resto delle informazioni cliniche deve rimanere ancora ben presente. Perché dico questo? Perché stresso questo concetto? Ancora una volta, da un punto di vista pratico, arriveremo alla migliore diagnosi possibile solo se queste informazioni le andremo ad integrare con tutto il resto. Vediamo ora effettivamente quali sono le potenzialità dell'OCT per aiutarci a fare diagnosi di glaucoma e aiutarci a identificare questa condizione negli stadi più precoci possibili. Abbiamo detto che c'è una grande quantità di capacità diagnostiche degli OCT e abbiamo visto quanti studi sono stati pubblicati. Noi nel 2013-2012 abbiamo provato a fare una revisione sistematica in cui abbiamo incluso ben 106 studi. Allora, era il 2013, valutammo non solo l'OCT ma anche gli strumenti di imaging che erano disponibili in quel momento e che in quel momento venivano molto utilizzati. Arruolando questi 107 studi, includendo questi 107 studi, questi sono alcuni dei risultati che noi troviamo. Ovvero il settore inferiore, i settori medi dell'analisi RNFL e dell'OCT ci dava le performance diagnostiche migliori con una sensibilità intorno al 70% e una specificità intorno al 93%. Ciò che di particolare è emerso da quella revisione è che c'era molta eterogenità, c'era molta variabilità dei risultati tra i diversi studi. In questo complicatissimo forest plot ogni riga corrisponde ad uno degli studi inclusi. Tutti i pallini che vedete sulla destra sono le specificità di ogni studio che erano state prese fisse a oltre il 95%, mentre questi pallini che vedete su questa colonna sono i valori di sensibilità per ogni studio. Il pallino che sta più a sinistra ha una sensibilità più bassa, quello che sta più a destra ha una sensibilità più alta e vedete come da studio a studio cambiava la sensibilità. I principali motivi di questa variabilità erano ovviamente i criteri di inclusione dei diversi partecipanti all'interno di ogni singolo studio e soprattutto la severità della patologia nei pazienti che erano stati arruolati. Per cui maggiore era la severità della malattia, migliore erano le performance dell'OCT che invece aveva in quel periodo, non solo OCT ma anche gli altri strumenti, qualche difficoltà negli stadi più precoci. In particolare, attenzione, perché molti degli studi che vengono riportati generalmente utilizzano come misura di accuratezza diagnostica le curve ROC, rappresentando a volte curve ROC oltre i 0,9, 0,95, insomma dei valori molto elevati che mostrano delle altissime capacità diagnostiche. Quando però andiamo a vedere i valori di sensibilità e di specificità, quello che scopriamo è che i valori di sensibilità, cioè la capacità di sensibilità, non sono un lavoro intorno al 2013. Sono passati quasi dieci anni e vedete negli ultimi dieci anni cosa è cambiato in termini di pubblicazione di lavori che si sono occupati di macula e di glacoma. Come ha detto Michele prima, attualmente abbiamo una grande quantità, una grande attenzione sulla regione maculare, per cui quella revisione di cinque anni fa attualmente è stata superata se vogliamo, da una quantità di informazioni importanti che stiamo accumulando. Come ha fatto vedere Michele, oggi noi abbiamo la possibilità di studiare la regione maculare in modo molto dettagliato, con delle mappe di deviazione che ci permettono di focalizzare la nostra attenzione sui singoli strati che vengono in maniera specifica interessate nella patologia glacomatosa, con le varie mappe di deviazione ai diversi livelli. Tutta questa mole di informazioni supplementari relativa a quest'area della retina ha suscitato un dibattito importante. Avendo a disposizione più protocolli di analisi, la domanda è qual è il protocollo migliore per identificare la presenza del glacoma? In poche parole, qual è l'area che più di altri ci permette di identificare il danno? E quando è che dobbiamo eseguire una scansione specifica della regione maculare? Qual è il luogo migliore? Di quale parametro dobbiamo fidarci maggiormente? Le fibre, la regione maculare, la testa del nervo ottico. Nel 2018 noi, come molti altri ricercatori, abbiamo provato a mettere in confronto le capacità diagnostiche delle diverse aree. In questo studio multicentrico, che ha coinvolto otto centri italiani, siamo andati a confrontare la capacità diagnostica delle fibre nervose con quelli dell'analisi della rima, con l'analisi della regione maculare in un'area centrale. Ciò che è emerso è che, considerando tutti i pazienti glaucomatosi che avevamo incluso, lo studio delle fibre e lo studio della rima si era dimostrata superiore in termini di curva rock rispetto ai parametri della regione maculare. Stessi risultati avevamo trovato anche eseguendo un'analisi per sottogruppi che includeva solo i pazienti con glaucoma precoce, mentre negli stadi moderati e più avanzati l'analisi maculare risultava confrontabile e paragonabile con quella degli altri settori. Qualcosa però di molto interessante è emerso anche dal diagramma di Venn, in cui abbiamo valutato la capacità dei singoli settori di identificare i pazienti glaucomatosi, in questo caso 197 glaucomatosi. Quello che è emerso è che 141 pazienti venivano identificati come glaucomatosi da tutti e tre i protocolli. Alcuni pazienti venivano identificati solo da analisi della rima, altri solo da analisi dell'NFL, altri solo da analisi maculare. Il messaggio che emergeva dal nostro... L'analisi... Cioè i tre, le tre aree di scansione, i tre protocolli di scansione debbono essere considerati come un qualcosa di complementare. Perché allora in alcuni casi risulta superiore l'analisi maculare, in altri l'analisi delle fibre e non si riesce ad avere una uniformità di risultati ed un'altra variabilità dei risultati. Ciò che è determinante per concentrare la nostra valutazione di analisi maculare è la topografia del danno. Cioè a seconda di dove è localizzato il danno nel paziente che abbiamo di fronte, noi potremmo avere una diversa performance dei parametri maculari o dei parametri delle fibre. Per cui le ipotesi che dovrebbero essere testate era se l'analisi maculare fosse un'analisi migliore rispetto all'analisi delle fibre e se questa dipendesse dalla localizzazione del danno. Nel 2014 viene pubblicato questo lavoro molto interessante in cui sono stati presi dei pazienti che avevano un difetto visibile all'asterofoto delle fibre nervose per i papillari e in base all'angolo del difetto si andava a valutare la performance dei diversi parametri. Ciò che è emerso è che all'aumentare dell'angolo del difetto i parametri maculari avevano una riduzione della loro sensibilità. In poche parole e questo era abbastanza ovvio, i difetti che erano localizzati al di fuori del polo posteriore non venivano identificati dall'analisi maculare, mentre quando il difetto era localizzato in sede centrale l'analisi maculare riusciva ad identificarlo. Come detto questo può sembrare abbastanza ovvio perché a seconda di dove è la localizzazione topografica avremo una diversa identificazione. Il problema però è andare a capire come interpretare situazioni in cui una volta che eseguo la scansione maculare trovo dei danni che io non avevo identificato in sede per i papillari. L'analisi maculare ci offre delle informazioni supplementari. Per questo dobbiamo partire dalla caratterizzazione del danno in sede maculare. Il gruppo di Hood ha proposto questo modello per cui il danno in sede maculare è più frequente in una porzione inferiore che è stata identificata come macula vulnerability zone che proietta a livello della testa e nervo ottico tra la porzione inferiore del quadrante temporale e la porzione temporale del quadrante inferiore. In questa zona compresa in quest'area rossa sono più frequenti i danni nella regione maculare. Seguendo questo modello un gruppo coreano nel 2017 pubblica questo lavoro che va a caratterizzare la localizzazione del danno in una serie di pazienti con glaucoma per i perimetrico, identificando tre aree. La regione maculare, la regione di proiezione delle fibre maculare in sede per i papillari e una regione inferiore della regione per i papillari. Su 186 occhi arruolati, 63 avevano un difetto in tutte queste tre aree. 61 mostravano un difetto in sede maculare ma non nella corrispondente porzione per i papillari. 21 occhi avevano un danno solo in regione maculare. Questo vuol dire che c'è un gruppo di pazienti nel quale noi abbiamo un difetto nella regione maculare ma non abbiamo un corrispondente difetto a livello per i papillari, così come abbiamo ovviamente pazienti solo con un danno nella regione papillare non nella regione maculare. Lo stesso gruppo ha preso dei pazienti che presentavano un difetto nella regione maculare ma non il corrispondente difetto nella regione per i papillari e li ha seguiti nel tempo in maniera longitudinale. Un totale di 94 pazienti. Questi 94 pazienti in un follow up di tre anni hanno sviluppato 12 occhi un danno proprio in sede per i papillari, 7 occhi un danno nella porzione inferiore, 6 occhi un danno sia nella porzione inferiore che nella porzione per i papillari e questo conferma come il danno in regione maculare probabilmente è meglio caratterizzato da una scansione che è localizzata in questa porzione specifica. Per cui riassumendo questo lungo discorso sulla regione maculare, noi possiamo dire che la regione maculare non copre l'interezza delle fibre nervose, per cui i danni che si trovano al di fuori del polo posteriore possono essere non identificati da un'analisi maculare, ma quando i danni sono localizzati in regione maculare possono essere meglio caratterizzati da un'analisi condotta a questo livello. È ovvio che la naturale conseguenza di questo discorso è quello di andare in una direzione che prevede l'integrazione delle informazioni, quelle che derivano dalle fibre, quelle che derivano dalle regioni maculare, quelle che derivano dallo studio della testa del nervo ottico. Per cui la domanda che c'eravamo posti all'origine e che per molti studi è stato l'obiettivo primario, cioè qual è il settore in cui noi dobbiamo in maniera specifica identificare il danno, perché è quello che ci dà con maggiore probabilità l'identificazione del glaucoma, probabilmente è una domanda che perderà progressivamente di importanza, perché la direzione nella quale stiamo andando è quella di prendere tutti i pezzi delle informazioni che derivano dall'analisi OCT e andarle ad integrare in una sola valutazione. Per cui in una interpretazione generale dell'esame OCT è importante andare a guardare i diversi protocolli, valutare l'agriment, la concordanza dei risultati che emergono nello studio delle diverse regioni e ancora di più andare a identificare quando questa concordanza si associa anche al danno funzionale. Come ha mostrato Michele prima, la sintesi di questo discorso è ottenere dei print out, ottenere dei report che ci consentono su un solo report, su una solo schermata, di avere tutte queste informazioni a disposizione per andarle ad integrare, per valutarne in maniera rapida la concordanza, eventualmente anche come passo successivo andare ad integrare la localizzazione del danno morfologico con la identificazione, con la localizzazione e la topografia del danno funzionale. Altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, meglio altri aspetti che dobbiamo tenere in considerazione in una interpretazione generale dell'OCT sono da un lato la valutazione della affidabilità delle scansioni, su questo non mi dilungo perché credo che il dottor Odone la scorsa settimana abbia ampiamente trattato questo argomento, valutare la scansione nella sua interezza e questo è un argomento che merita un pochino di essere approfondito. Uno dei punti chiave è quello di evitare nel momento in cui abbiamo la nostra scansione OCT davanti, di cadere nella tentazione di guardare il triangolino verde, il triangolino rosso e fare di quel triangolino motivo di diagnosi. È vero che questo tipo di valutazione è quella più intuitiva, è quella più rapida, però è anche quella che più spesso ci può far cadere in una valutazione errata. Vi mostro un caso clinico, vi mostro un esempio di quella che viene generalmente definita come green disease. Questo è un paziente di 51 anni in terapia con prostaglandine che presenta un campo visivo stabile negli ultimi due anni con la presenza di un difetto nell'occhio destro, visibile sia in un esame di 24-2 che nell'esame 10-2, quindi la presenza di questo difetto paracentrale. L'analisi OCT di questo paziente è il seguente. L'analisi delle fibre ci mostra una presenza di un difetto nella porzione inferotemporale con dei valori di spessore globali che vengono considerati al di fuori dei limiti della norma. Quello che spiegava prima Michele, come potete vedere qui, abbiamo un valore di 65 micron che va al di sotto del 1%, quindi la probabilità di trovare questi spessori nel database normativo all'interno dello strumento è inferiore, nei soggetti normali è inferiore all'1%. Questo paziente presentava quest'analisi della rima, per cui tutti i settori sembrano essere verdi, il profilo di spessore rimane nel bolo verde, quindi la range di normalità per tutti i 360 gradi, per cui se io valutassi quel paziente semplicemente dall'analisi della rima, in questo caso, e valutassi solo il codice colore come punto di riferimento, arriverei alla conclusione che probabilmente questo è un campo visivo normale, è un esame OCT normale. L'analisi del polo posteriore conferma la presenza del danno, perché sia l'analisi a tutto spessore della retina che l'analisi delle fibre mostrano una riduzione del spessore nella porzione inferiore, quindi corrispondente sia all'analisi delle fibre pericolose che al difetto funzionale mostrato all'esame del campo visivo. L'analisi di simmetria tra l'emisfero superiore e inferiore conferma questa riduzione di spessore nell'emisferi inferiori. Questi erano invece, come detto, le due analisi, le fibre per i papillari e l'MRW. L'analisi, il campo visivo concorda con l'evidenza del danno, l'unico elemento che sembra discordante, come dicevamo, è l'MRW. Perché succede questo? Andiamo ad analizzare un pochino meglio il profilo di questi due esami. Mentre il profilo dell'RNFL nel settore inferotemporale chiaramente mostra una riduzione che lo fa cadere nella zona al di sotto dell'1%, in una sezione, in una porzione che viene fleggata come rossa dalla macchina. Se però noi osserviamo il profilo dell'MRW, quello che possiamo notare è che anche nel profilo dell'MRW abbiamo una zona di depressione. Una zona di depressione rispetto alla totalità del profilo di questo paziente. Per cui che cosa è successo in questo paziente? Che la rima nervosa nella porzione inferotemporale si è ridotta, ma non si è ridotta a sufficienza per cadere in una zona definita dalla macchina come borderline o fuori dai limiti della norma. Per cui evidentemente questo paziente aveva una quantità di fibre iniziali che lo posizionavano in una posizione percentile elevata, ha cominciato a perdere rima in quel settore, ma non a sufficienza per raggiungere la zona fleggata come rosso. Perché ho presentato questo caso? Perché trovo questo caso interessante? Perché se noi ci limitassimo a valutare l'MRW e ci limitassimo a valutare semplicemente l'esistenza dei settori tutti i bordi, se però noi associamo alla valutazione del codice colore anche un'analisi del profilo della rima nervosa, potremmo al netto di tutte le altre informazioni andare a vedere che qui nella porzione inferotemporale effettivamente sta succedendo qualcosa, effettivamente c'è stata una depressione delle fibre rispetto al resto. Questo è un esempio di green disease, cioè un paziente che ha una riduzione delle fibre ma ancora non hanno raggiunto un livello di significatività rispetto al database di riferimento. Come diceva Michele in precedenza, il database di riferimento per l'RNFL è leggermente diverso da quello per l'analisi della rima. Ovviamente dobbiamo prendere in considerazione, nel momento in cui interpretiamo l'OCT, anche l'esistenza di altre patologie, quindi non fossilizziamoci sull'idea che ogni alterazione del profilo delle fibre nervose di papilità, è espressione di glaucoma, dobbiamo sempre tenere in considerazione che altre condizioni patologiche possono aver determinato un'alterazione, una riduzione delle fibre, un aumento degli spessori, una diminuzione degli spessori, dopo vedremo un esempio, qualche esempio. Per cui, tornando alla valutazione che abbiamo detto inizialmente, abbiamo visto come le informazioni dell'OCT debbono essere integrate con la completezza dell'esame del nostro paziente, come questo ci può permettere una valutazione, una identificazione del glaucoma con delle performance diagnostiche piuttosto elevate. Sempre nell'ambito della diagnosi di glaucoma, a mio avviso, bisogna sottolineare le potenzialità dell'OCT nella predizione di futuri difetti funzionali. E questo è un aspetto che si pone a metà strada tra l'utilizzo dell'OCT in una fase di diagnosi e in una fase di progressione. È ragionevole modificare il mio approccio terapeutico nei confronti dei nostri pazienti sulla base dei cambiamenti dell'OCT? Ovvero, i cambiamenti che io osservo all'OCT sono clinicamente rilevanti? Quanto sono clinicamente rilevanti? Questa è una delle domande che, confesso, più frequentemente sento fare a chi fa presentazioni o racconta le potenzialità dell'OCT? Perché ovviamente il nostro problema è quello di capire se tutte quelle informazioni che troviamo nell'OCT poi possono, da un punto di vista clinico, pratico e terapeutico, influenzare quello che è la prognosi del nostro paziente e quello che è l'obiettivo della gestione, della terapia del paziente glaucomatoso. Allora io provo a fare un ragionamento di questo tipo. Noi sappiamo che l'obiettivo della terapia del glaucoma è quello di, anche in questo caso abbiamo la quinta edizione delle linee guida dell'EGS che ci dice come l'obiettivo del trattamento del paziente glaucomatoso o a rischio di glaucoma è quello di migliorare la qualità di vita agendo sulla funzione visiva del nostro paziente e su quello che può essere l'impatto della patologia cronica sulle sue condizioni, con un trattamento che sia ovviamente costo efficace. Ovviamente, come vedete, nella definizione dell'obiettivo della terapia del glaucoma noi non troviamo nessun riferimento alla pressione intraoculare. Eppure la pressione intraoculare è probabilmente l'elemento che maggiormente teniamo in considerazione quando abbiamo di fronte il nostro paziente. È l'elemento sul quale basiamo molte delle nostre decisioni, non tutte ovviamente, perché l'aspetto funzionale è l'altro elemento cardine nel gestire il nostro paziente, però è quell'elemento che a volte ci fa cambiare approccio terapeutico al netto di tutte le altre informazioni. E allora io potrei dire per quale motivo noi agiamo in questo modo nei confronti di un parametro che non è l'obiettivo del nostro trattamento. Lo facciamo perché dei trial clinici importantissimi, ben fatti, ci hanno spiegato come i cambiamenti della pressione intraoculare agiscono e come sulla prognosi visiva del nostro paziente, sulla progressione del glaucoma, nei difetti del trattamento. Se la pressione aumenta, per ogni aumento della pressione abbiamo un aumento del rischio di sviluppare il danno funzionale. E allora andiamo a vedere se anche le informazioni che otteniamo dall'OCT possano essere in qualche modo predittive di ciò che accadrà nel nostro paziente nel futuro. Primi studi, ovviamente tipo longitudinali, su questi aspetti sono stati condotti e qualche risultato ce l'abbiamo. In questo caso sono stati arruolati 356 pazienti con glaucoma perimetrico o preperimetrico e sono stati eseguiti per un follow up di 5 anni, sia con l'analisi OCT che con l'analisi del campo visivo. Che cosa è emerso? Che l'esame OCT era in grado di identificare un 20% di progressione, 20% dei pazienti di progressione un anno prima di quanto non era capace l'analisi del campo visivo e che a 60 mesi l'esame OCT era in grado di identificare progressione in un numero pari al 57% dei pazienti rispetto al 36%, cioè in poche parole nei glaucomi perimetrici l'OCT era in grado di identificare una progressione più precocemente rispetto al campo visivo e farlo in una quantità maggiore di pazienti. Risultati molto simili nei pazienti con glaucoma preperimetrico o con glaucoma sospetto. L'evidenza di progressione dell'OCT sembrava essere più precoce rispetto al campo visivo. Pazienti in progressione, alcuni venivano identificati solo dal campo visivo, alcuni venivano identificati solo dall'OCT, un 30% venivano identificati da entrambe questi tipi di analisi. Ora, quando noi parliamo di progressione in glaucoma c'è un grosso bonus in tutti questi studi, il fatto di non avere un reference standard, per cui è necessario seguire questi pazienti in alcuni casi con entrambe le metodiche e vedere queste metodiche che cosa ci dicono. Un altro studio pubblicato nel 2016, molto interessante, ha preso i pazienti in una condizione di baseline, li ha seguiti nel tempo e ha valutato se alcune variabili alla baseline fossero predittive del rischio di sviluppare il glaucoma, cioè di convertire in glaucoma con la comparsa di un danno del campo visivo. Tutti i parametri OCT analizzati in quel caso erano predittivi di un maggior rischio di sviluppare il danno al campo visivo. Pazienti che avevano un parametro maculare alterato, borderline o anormale, avevano un rischio dalle 4 alle 5 volte rispetto a chi aveva quel parametro nei limiti della norma, di convertire in glaucoma e sviluppare un difetto del campo visivo. Quindi avere un OCT alterato alla baseline sembra essere un fattore di rischio per sviluppare difetti funzionali al campo visivo futuro. L'ultimo studio che vi mostro è quest'altro studio che ha paragonato, ha seguito pazienti nel tempo, sia con l'analisi OCT che con gli esami del campo visivo. Ancora una volta, pazienti che mostravano un cambiamento nelle fibre nervose per i papillari avevano un tasso di cambiamento della VFI del campo visivo decisamente superiore rispetto a quelli che conservavano spessori dell'RNFL più costanti nel tempo. Per cui in questi pazienti, se c'era l'assottigliamento delle fibre nervose, c'era un maggior rischio di conversione nel campo visivo. Che cosa mostrano in sostanza questi studi? È ovvio che questi studi non hanno il rigore, il fatto di essere dei traia randomizzati con un disegno preciso appropriato per testare queste ipotesi, però questi studi ci danno i primi indizi che ciò che noi vediamo all'OCT oggi, anche se non è corrispondentemente associato ad un difetto funzionale all'esame del campo visivo, in qualche modo potrebbe essere indicativo e predittivo di un maggior rischio di sviluppare un difetto funzionale, che è poi quello che ci interessa per preservare la qualità di vita del nostro paziente. Per cui provando a riassumere quello che è l'utilità dell'OCT nella diagnosi di glaucoma, possiamo dire tranquillamente che l'OCT è parte dell'esame rutinario del nostro paziente. Quando ci troviamo di fronte al paziente e decidiamo di eseguire la nostra scansione OCT, attualmente non ha senso eseguire solo l'analisi delle fibre, solo l'analisi della rima. La scansione della regione maculare deve essere sempre acquisita, anche perché, avete visto e sappiamo che i tempi di acquisizione delle scansioni sono estremamente ridotti, queste macchine fanno le cose in maniera estremamente rapida, quindi il time consuming dell'utilizzo di queste macchine è veramente ridotto. Dobbiamo sempre andare a cercare la concordanza delle informazioni, quando c'è concordanza questa aumenta la nostra confidenza nella diagnosi, se non c'è questa concordanza rimane siamo ancora di fronte ad una sfida, ad una situazione che dobbiamo seguire nel tempo, che dobbiamo valutare con molta attenzione, nella consapevolezza però che la concordanza che non troviamo oggi potrebbe comparire nel futuro. Non dimenticare mai che l'output, che il print out dell'OCT non rappresenta una sentenza di diagnosi, ma è un insieme di informazioni che dobbiamo integrare con il resto delle informazioni che otteniamo dall'esame del nostro paziente. Passiamo adesso dal discorso relativo alla diagnosi al discorso relativo alla progressione. Va detto che lo studio della diagnosi, l'utilizzo dell'OCT per diagnosticare la presenza del glaucoma e l'utilizzo dell'OCT per cercare di identificare l'eventuale presenza di una progressione, quindi di gestire il paziente nel tempo, rappresentano proprio due realtà molto diverse in cui possono cambiare le indicazioni specifiche, in cui può cambiare l'approccio. Va però tenuto ben presente che in entrambi i casi un certo tipo di valutazione delle informazioni, un certo aspetto di integrazione delle informazioni rimane. I prerequisiti fondamentali per utilizzare un OCT, uno strumento di imaging in generale, per gestire il paziente glaucomatoso sono innanzitutto una buona capacità di registrazione delle immagini, vedremo ora che cosa intendo per questo, un'elevata riproducibilità, un range dinamico ottimale, una definizione di progressione, perché nel momento in cui noi abbiamo acquisito le nostre informazioni, i nostri dati nel tempo, andare a definire cosa è progressione è veramente una sfida stimolante, non è facile e vedremo come al cambiare della definizione di progressione può cambiare anche la quantità di soggetti identificati come in progressione. E l'altra sfida importante è quella di differenziare ciò che è una reale progressione patologica dovuta alla patologia e da ciò che invece è un cambiamento legato ad altri fattori. Ora vedremo questi aspetti. Il primo punto è quello di seguire il nostro paziente nel tempo in maniera ottimale, cioè è fondamentale che le diverse scansioni acquisite nel tempo siano allineate, andando quindi ad identificare sempre la stessa porzione anatomica in modo che lo studio di questa porzione anatomica sia di fatto confortabile. Lo spettralis attraverso l'eye tracking e ci consente di mantenere, di andare a compensare i movimenti che i pazienti eseguono a volte in maniera anche eccessiva nel corso dell'esame, ci consente di andare a rilevare sempre la stessa porzione anatomica e quindi allineare la scansione sia delle fibre che della rima nervosa che dell'analisi del polo posteriore, sempre allineata nella stessa porzione. In questo studio è stato evidenziato come se si disattiva l'eye tracker e il retest function, che sono appunto queste funzioni di andare a compensare i movimenti e di mantenere l'analisi nella stessa porzione anatomica, se si esegue l'esame con queste funzioni disattivate, mi sentite? Sì, sì, è ripresa la connessione. Mi senti? È ripresa adesso, è ripresa adesso, prosegui pure. Mi senti? Mi sentite? Sì, sì, adesso sì, puoi ripartire, si era bloccato un secondo. Non sento nessuno, mi sentite? Senti me, Emanuele? Michele? Io ti sento. Anch'io, anch'io sento. Io non ti sento. Noi sentiamo, eh? Ti vedo ma non ti sento. Puoi proseguire, è tutto ok. Voi... Vado avanti... Ci sei? Sì, ok. Ok, ok. Perfetto, dicevo, in questo studio sono stati confrontati la riproducibilità delle misurazioni con il sistema iTracker disattivato e con il sistema invece attivato. Sia nei controlli che nei pazienti glaucomatosi c'è stato un miglioramento deciso dei risultati quando l'iTracker è attivato e quindi questo consente di poter parlare, di analizzare la progressione in maniera ottimale. L'altro aspetto è quello della riproducibilità, ma credo che il dottor Oddone ve ne abbia ampiamente parlato nella precedente sessione, quindi non mi soffermo su questo. Mi soffermo invece sul discorso del range dinamico, ovvero di quella porzione di misurazioni nell'ambito della quale noi riusciamo ad identificare una progressione. È ovvio che un paziente nella sua, diciamo, nella distribuzione di normalità potrà avere degli spessori che si posizionano in questa posizione oppure in questa posizione e nella sua progressione tutto ciò che accade dipende non solo da quanto lui sta progredendo, ma anche dal range dinamico della misura che in quel momento noi stiamo valutando. Maggiore è il range dinamico, migliore è la nostra potenzialità di identificare dei piccoli cambiamenti. Un altro aspetto della progressione che mi preme sottolineare, che sono abbastanza quasi divertito, devo dire la verità, quando trovo situazioni di questo tipo, è il tenere presente che ovviamente queste macchine hanno una elevatissima riproducibilità, ma qualunque misurazione, qualunque test diagnostico ha un certo grado di fluttuazione tra una misurazione e l'altra. Allora immaginate di seguire un paziente con le fibre nervose per i papillari, immaginate che la linea blu rappresenti il cut off che separa ciò che lo strumento ci dà come verde nei limiti della norma e ciò che invece lo strumento ci dà come giallo, come borderline oppure addirittura come rosso al di sotto. Immaginate che questo paziente abbia una prima misurazione, una seconda misurazione, ancora una terza misurazione e tutto risulti verde. Alla misurazione successiva compare un quadratino giallo, questo ci pone in una condizione di allarme perché vediamo che qualcosa sta cambiando, poi però la volta successiva lui torna ad essere verde, per poi tornare ad essere nuovamente giallo e nuovamente verde nelle successive. Cosa succede a questo paziente? Peggiora, migliora, peggiora, migliora? Succede semplicemente che il suo valore di spessore si trova proprio a cavallo della porzione di cut off, per cui quelle inevitabili fluttuazioni che esistono tra una misurazione e la successiva ci daranno a volte un quadratino giallo, a volte un quadratino, un triangolino verde, per un paziente che sostanzialmente, se andiamo a valutare in maniera diciamo complessiva la sua analisi di progressione, è un paziente sostanzialmente stabile perché i valori di spessore sono praticamente invariati. E questo è proprio un esempio di un paziente di questo tipo, questo è un paziente in cui nell'occhio destro l'analisi delle fibre sembra passare nel settore temporale dall'essere all'interno del range di normalità ad essere invece come borderline, al contrario nell'occhio sinistro il settore infrotemporale sembrava fuori dai limiti della norma, sembrava un settore francamente danneggiato, però nell'analisi successiva eseguita un anno e quasi due anni dopo, questo settore torna ad essere giallo perché nella fluttuazione passa da uno spessore o uno spessore leggermente superiore, questo però è sufficiente per riportarlo nella zona gialla. Infatti se noi vediamo la sequenza lungo la linea in cui i vari esami vengono messi su un piano orizzontale, vediamo come il settore temporale, il primo esame si trovava proprio al limite nella zona del verde, mentre nel successivo cade nella zona del giallo, mentre l'analisi sempre delle fibre nel settore inferotemporale dell'occhio sinistro, ci ha fatto vedere Michele come possiamo valutare diversi settori, il primo esame cadeva fuori dai limiti, mentre nel successivo si ritrova borderline. Perché ho messo questi esempi per tenere sempre presente il concetto che gli esami e tutte le informazioni che otteniamo dai printout debbono essere valutate in maniera critica, in maniera complessiva, in maniera integrata, per tutte le informazioni che possono darci. Come ha mostrato Michele prima, noi abbiamo la possibilità di avere un'analisi del trend, un'analisi degli eventi. L'analisi del trend è un'analisi che traccia questa retta di progressione. Questi sono due esempi per farvi vedere un paziente che probabilmente, due pazienti che probabilmente stanno peggiorando, in cui la pendenza della curva sembra essere significativa per un peggioramento statistico, il primo paziente a sinistra si trova francamente in una zona fuori dai limiti della norma, nel range al di sotto dell'1%, l'altro paziente invece si trova nella zona di limiti normali, per cui il secondo caso noi continueremo a vedere un quadratino, un settore sempre verde, ma se andiamo però a fare analisi di regressione, se andiamo a vedere il trend di progressione, in questo caso potremmo vedere che qualcosa sta succedendo, il settore rimane sempre verde, ma questa zona sta peggiorando, sta perdendo fibre e lo sta facendo in una maniera che probabilmente non rientra nel fisiologico decadimento. Il fisiologico decadimento infatti rappresenta uno degli aspetti più problematici quando andiamo a cercare di utilizzare gli OCT per studiare la progressione del glaucoma e per gestire il follow up dei nostri pazienti. Di fatto identificare una progressione significa andare a differenziare, come ho detto prima, un cambiamento patologico vero da quelle che invece sono le fluttuazioni, le variabilità per la test-retest variability e per il decadimento fisiopatologico. Tanti studi hanno cercato di valutare qual è il tasso di deterioramento dei diversi parametri, in questo caso della RNFL, delle fibre peripapillari medie, nei soggetti normali e nei soggetti glaucomatosi. Qui vedete uno studio che ha mostrato un decadimento di 0,54 micron per anno. È ovvio che un paziente che ha un decadimento glaucomatoso di 0,54 micron per anno, non possiamo dire che questo paziente sta decadendo per causa della patologia, ma sta decadendo in maniera fisiologica. Tutte le analisi di progressione dovrebbero quindi andare a tenere conto di quello che è il decadimento fisiologico per l'età. In questo studio del 2013 si è proprio analizzato il tasso di progressione senza correzione per età e invece un tasso di progressione andando a tenere in considerazione i cambiamenti legati all'età. E se visto come l'analisi maculare in questo caso, cambiava in maniera decisa, avendo una progressione evidenziata in ben 50% dei pazienti, non tenendo conto dei cambiamenti legati all'età, sono nel 15% dei pazienti se questi cambiamenti si tenevano in considerazione. In quest'altro studio del 2017 sono stati presi in considerazione in pazienti normali diversi criteri di definizione della progressione, per cui con o senza tenendo in considerazione i cambiamenti legati all'età. Quello che si è visto, e sono queste quattro curve che voi vedete nei grafici, a prescindere se il test era annuale o semestrale, è che tanto più era ristretta, tanto più era stringente la definizione di progressione, tanto minore era il numero di soggetti normali falsamente riconosciuti come in progressione. Per cui non è solo un problema di quello che noi osserviamo, ma è anche di quello che noi chiediamo alla macchina e come andiamo ad interpretare quello che ci dice. I criteri che noi utilizziamo per definire questa è progressione, questo no, influenzano ovviamente poi quanti pazienti troveremo in progressione. In generale se non si prende in considerazione i cambiamenti legati all'età, pazienti normali possono essere con i comuni OCT identificati come in progressione, quindi l'attenzione è sempre quella di valutare le informazioni che abbiamo davanti in maniera complessa, in maniera complessiva scusatemi, e integrando l'informazione con il resto dei dati clinici. Noi stiamo facendo una revisione sistematica perché ci sono veramente tanti studi che hanno provato a valutare i cambiamenti legati all'età nei pazienti normali, noi stiamo per pubblicare una revisione sistematica in cui abbiamo preso tutti questi studi che valutavano i diversi parametri e abbiamo cercato di capire innanzitutto qual è il valore che meglio rappresenta il decadimento legato all'età e quali parametri effettivamente poi influenzano il trovare un decadimento in soggetti normali maggiore o minore attraverso una network meta-analisi. Per cui se noi consideriamo l'utilizzo dell'OCT nello studio della progressione possiamo dire che gli aspetti positivi da un lato sono il fornire delle immagini oggettive, quantitative che sono assolutamente utilizzabili nel tempo in un modo che non richiede nessun tipo di giudizio qualitativo se non quello per l'interpretazione dei risultati stessi. Sono delle analisi molto affidabili, estremamente rapide e di facile esecuzione. L'analisi strutturale può precedere il difetto funzionale e abbiamo visto come i primi studi suggeriscono che ciò che noi osserviamo da un punto di vista strutturale e morfologico mediante l'OCT può essere predittivo di quello che vedremo in futuro da un punto di vista funzionale. Ovviamente dobbiamo considerare degli effetti negativi. Il primo aspetto di cui non abbiamo parlato è l'effetto pavimento, ovvero il fatto che ad un certo punto le misurazioni OCT raggiungono un livello al di sotto del quale non si può scendere perché al di là delle componenti che si riducono specificatamente nella patologia glaucomatosa, nel glaucoma ci sono delle componenti strutturali che verranno sempre misurate dall'analisi OCT. Da questo punto di vista l'analisi maculare sembrerebbe avere una minore dipendenza dall'effetto pavimento proprio per la struttura che troviamo al polo posteriore rispetto a quello per i pavillari. Quindi sembrerebbe poter avere una maggiore capacità di identificare la progressione nei pazienti con glaucoma in una fase più avanzata, pazienti nei quali tipicamente sono considerati meglio valutabili con il campo visivo rispetto all'analisi delle fibre. Noi andiamo a studiare un parametro che è una struttura, uno spessore che di fatto non incide sulla vita del paziente, se non nella misura in cui poi determina i cambiamenti funzionali del paziente stesso. Attenzione a valutare il printout e singole analisi nel contesto del printout perché deve essere interpretato nella sua interezza e facili o meglio rapide letture di singoli valori o di singoli parametri possono essere ingannevoli. Non c'è ancora, non ci sono ancora studi che sono stati condotti in maniera precisa e che possono rispondere in maniera soddisfacente al dibattito relativo alla frequenza con la quale bisognerebbe eseguire questi esami e a quale sia la migliore definizione di progressione utilizzando questi parametri. Per cui in generale rimane i concetti che abbiamo detto, il discorso della qualità, dell'attenzione degli artefatti, il fatto di osservare la scansione nella sua interezza, cercare sempre la concordanza tra i diversi parametri e tra i singoli parametri strutturali rispetto a quelli funzionali, non basare tutte le nostre considerazioni solo sull'OCT. Andando a concludere questa carrellata di informazioni sull'utilizzo dell'OCT nella pratica clinica, diagnosi o progressione, andiamo a cercare di rispondere all'altro argomento di dibattito. Quindi in sostanza, vista l'utilità dell'OCT quando noi andiamo a fare diagnosi, vista la sua utilità quando la possiamo utilizzare nella progressione, chi sono i pazienti per i quali dobbiamo pensare ad una scansione OCT e quanto frequentemente, in che tipologia di pazienti. È interessante quello che ci dice le linee guida dell'EGS, che nella quarta edizione, nella penultima edizione, ci dice che come strumento di base line con glaucoma, in quale il campo visivo non è affidabile o è normale, nei pazienti che hanno un danno precoce e moderato. Quindi di fatto, laddove noi abbiamo glaucoma o sospetto glaucoma, alla base line dobbiamo acquisire un'immagine OCT. L'unico paziente glaucomatoso che viene escluso da questa indicazione sono i pazienti con glaucoma avanzato, se vogliamo. E come viene utilizzato, come dovrebbe essere utilizzato lo strumento OCT per monitorare la progressione? La frequenza dovrebbe essere simile a quella del campo visivo, quindi al test del campo visivo. Il paziente dovrebbe essere eseguito sempre con lo stesso test, con lo stesso metodo, per ovviamente facilitare una stima della progressione. Questo è uno dei problemi che generalmente affrontiamo nelle nostre cliniche, ovvero paziente che si presenta con tre OCT, tre OCT diversi. Allora ricordiamoci che le informazioni non possono essere perfettamente sovrapponibili. In qualche modo ci possono dare un'indicazione, perché se io trovo una concordanza di difetto in una certa porzione del nervo ottico, in un specifico settore, un certo quadro di difetto glaucomatoso in tutti e tre l'OCT, devo dire che avere tre OCT non è che mi dispiace, però è ovvio che non posso andare a pensare che nel 2015 aveva un livello di danno con un OCT, per cui nel 2020 ha un altro livello con un altro OCT, questo mi indica una progressione, non è possibile. Eseguire un esame nella progressione alla baseline e ripeterlo entro tre mesi dopo la baseline e fino a quattro volte nei primi due anni per identificare i pazienti che sono ad alto rischio di progressione. Praticamente è una indicazione simile, quasi identica, a quella che viene raccomandata per il campo visivo. Quindi eseguire più esami nei primi due anni per aumentare la probabilità di identificare i pazienti che sono ad alto rischio di progressione. Ripeterlo invece annualmente nei pazienti che hanno ipertensione oculare e questo credo che sia una delle aree di applicazione dell'OCT maggiore, a mio avviso. Ovvero quei pazienti che non hanno un'età molto avanzata, che sono ancora giovani, che si presentano in un quadro piuttosto sospetto, che si presentano con pressioni a limite, se non elevate. Questi pazienti, avere uno strumento che ad oggi mi dice la sua, che mi inquadra e che mi caratterizza da un punto di vista strutturale, morfologico, questi pazienti, dandomi la possibilità fra un anno di ripetere lo stesso esame, andare a controllare se qualcosa è cambiato da un punto di vista morfologico e funzionale, sicuramente costituisce una risorsa preziosa. Se poi vogliamo pensare che cosa farei, che cosa io farei se trovassi dopo un anno un OCT al tempo, probabilmente non vado a modificare la mia terapia, il mio approccio terapeutico, l'eventuale terapia o il trattamento, però un paziente che dopo un anno mi mostra un OCT in peggioramento, in un chiaro peggioramento, al netto di tutte le altre informazioni, è un paziente sul quale metto particolare attenzione e che magari invece di far tornare dopo un anno, faccio tornare dopo sei mesi per inquadrarlo e perseguirlo con maggiore attenzione. Quindi al di là dei suggerimenti dell'EGS, possiamo pensare proprio sulla base di quelli che per supportare la diagnosi è importante soprattutto nelle fasi precoci, nei sospetti, nelle fasi iniziali. Per gestire il follow up, in linea teorica tutti i pazienti possono essere utilizzati con l'OCT, tranne quelli dove ovviamente l'esame OCT rappresenta una chimera, era chiaramente un esame che non ci dà informazione, un paziente con un'alta miopia, non solo è un paziente nel quale è difficile a volte eseguire l'esame e eseguire un esame che mi dia una segmentazione affidabile, ma è anche un paziente, teniamolo sempre in considerazione, le cui caratteristiche lo mettono purtroppo per lui al di fuori dei database di riferimento. I database di riferimento hanno delle chiare caratteristiche, i pazienti che vengono arruolati nei database di riferimento hanno delle caratteristiche specifiche, hanno dei profili di comorbidità precise, sia da un punto di vista oculare che non oculare, in particolare però per quel che riguarda l'aspetto oculare, per esempio i pazienti con miopie molto elevate in genere non vengono inclusi nei database di riferimento, quindi un paziente con un'alta miopia potrebbe essere messo in confronto con dei soggetti che tra virgolette non fa parte. È importante anche per gestire l'occhio controlaterale di un paziente che ha un glaucoma monolaterale, può essere utile nelle patologie, in una fase avanzata di patologia. Questo è un altro argomento di dibattito. L'effetto pavimento, come ho detto in precedenza, per l'analisi maculare può essere meno marcato, quindi l'analisi maculare può risentire meno dell'effetto pavimento. Va anche detto che se c'è una patologia molto avanzata, ma ho alcune aree conservate nel nostro paziente, lo studio di quelle aree può essere ancora eseguito e può essere ancora utile eseguirlo con l'OCT. In generale, come ho detto, mancano delle evidenze forti sulla frequenza di ripetizione dell'esame, sulle definizioni di progressione, ma condurre degli studi ben fatti e soprattutto che siano appropriati per la domanda che ci poniamo in questo contesto non è assolutamente facile. Per cui, tornando a mettere un po' in pratica quello che abbiamo detto finora, in presenza di un paziente, vediamo alcuni esempi. Questo è un paziente di 67 anni che si presenta con una pressione di 27 millimetri di mercurio, con queste papille ottiche, una papilla destra che sembra praticamente normale, una papilla sinistra dove chiaramente c'è un difetto nella porzione inferotemporale con un'emoragia peripapillare. Questo paziente si presenta con un campo visivo che mostra un difetto corrispondente all'aspetto strutturale, all'aspetto nervo ottico nell'occhio sinistro. Qui credo che possiamo essere d'accordo nel dire che non ho un'esigenza precisa di eseguire l'OCT per fare diagnosi. Qui non ho bisogno probabilmente dell'OCT per andare a confermare che siamo in presenza di un danno. È ovvio che questo è un paziente nel quale l'OCT, come dicevamo prima, potrebbe servirmi per seguire il paziente nel tempo, per monitorare la soprovisione, per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'occhio contro la laterale. Diverso invece il discorso di questo paziente nel quale l'aspetto delle papille è un paziente che non fa terapia, che ha una pressione borderline di 22. L'aspetto delle papille è un aspetto abbastanza sospetto, dove sembrerebbe esserci ad una prima valutazione una possibile accentuazione dell'escavazione, forse un appiattimento della rima nel settore temporale, che non è detto che rappresenti nulla di patologico. Andiamo a eseguire l'OCT, abbiamo a eseguire il campo visivo, il campo visivo è assolutamente normale e anche l'OCT ci conferma e ci conforta che questo è un paziente che ha dei valori della rima, delle fibre nervose per i papillari assolutamente nel range di normalità, anche abbondanti volendo vedere. Lo stesso dicasi per l'analisi maculare, dove i diversi strati, il RNFL o il stato di ricevo e i gangliori non mostrano particolare evidenza di danno, quindi direi che questo è un paziente assolutamente normale. In questo caso probabilmente l'OCT, eravamo già in una situazione di tranquillità a valutare un campo visivo praticamente perfetto, il campo visivo però può averci, l'OCT può averci supportato una valutazione del nervo ottico in cui ci ha aiutato nel farci vedere una quantità di fibre che oggettivamente era ben presente. Quando andiamo ad integrare le informazioni dell'OCT con il resto dello scenario del nostro paziente e queste sono un paio di situazioni che vorremmo sempre trovare, cioè quello che io ho definito come il migliore dei casi possibili, cioè un paziente che presenta un difetto in tutte le porzioni dell'OCT corrispondente, sia nella regione della rima nervosa, a livello delle fibre per i papillari e poi in regione maculare con questo difetto nelle porzioni inferiori. Quando andiamo a eseguire il campo visivo effettivamente questo paziente pur non avendo un danno particolarmente avanzato però mostra un difetto iniziale paracentrale qui che va tenuto sul fatto nasale, quando facciamo un 10-2 effettivamente questo difetto nella porzione centrale è un difetto che ci deve mettere in allarme per la sua posizione, integrando queste informazioni praticamente è tutto concordante. Stesso dicasi di quest'altro paziente dove ha questo aspetto del nervo ottico, anche qui c'è un'emorragia per i papillari, c'è un difetto delle fibre nervose per i papillari visibili anche all'immagine del fondo, andiamo a eseguire l'esame del campo visivo, il campo visivo mostra anche in questo caso un difetto nella porzione centrale e la valutazione dell'OCT ci mostra un difetto inferotemporale a livello della rima nervosa, un difetto a livello delle fibre nervose per i papillari e anche quando eseguiamo l'analisi maculare, l'analisi maculare mostra un difetto nella porzione inferiore, con un assottigliamento nelle porzioni inferiori, anche la mappa di deviazione ci mostra una perdita di quella immagine del pesce come ha mostrato prima Michele, quindi un difetto a ciforme in questa porzione inferiore, mostrato anche in questa mappa, con una riduzione degli spessori, soprattutto in questa mappa che è quella dell'RNFL e in parte anche nella porzione dello strato delle cellule ganglionari visibili in questa porzione e anche nel quadrante inferotemporale, questi sono due esempi di pazienti nei quali tutti i dati sono concordanti, ogni informazione corrobora l'altra e ci sentiamo diciamo abbastanza tranquilli, il paziente un po' meno per la presenza del danno, però arriviamo con una abbastanza fiducia nella diagnosi. Prendiamo però per esempio questo paziente, questo è un paziente di 70 anni che fa terapia con prostaglandine e questo è l'aspetto oftalmoscopico della testa del nervo ottico, io sono convinto che molti di voi all'osservazione di queste papille, compreso me, direbbero e dicono che queste sono delle papille assolutamente normali, quindi all'osservazione di queste papille non c'è nessuna evidenza di danno. Questo è l'aspetto dell'OCT, dell'occhio sinistro, quindi praticamente è un quadro abbastanza normale, non c'è evidenza particolare di qualche riduzione, qui nell'analisi delle fibre per i papillari notiamo forse una leggera riduzione con una piccola invasione della porzione borderline, ma forse legata al profilo particolare di questo paziente. Quando andiamo a vedere l'occhio destro, invece, notiamo una riduzione della rima nel settore superotemporale, una riduzione corrispondente della rima nelle fibre nervose per i papillari superotemporale e una danno anche all'analisi maculare, un difetto nella porzione superiore che poi corrisponde ovviamente evidenziato anche dall'analisi di simmetria. Lo stesso, dicasi, per l'analisi delle fibre, quindi focalizzata sulle fibre maculari, meno visibile per le cellule ganglionari. Com'è il campo visivo? Questa era la papilla dell'occhio destro. Allora, a questo punto, una volta eseguita la papilla, una volta eseguito l'OCT, la curiosità è quello di andare a vedere qual è l'esame del campo visivo. Questo è l'occhio sinistro, quello che risultava e sembrava praticamente normale, questo è l'occhio destro. Cioè, l'occhio destro mostra un difetto tipicamente glaucomatoso nella porzione inferiore e questo difetto ha una distribuzione topografica che perfettamente corrisponde con quello che noi abbiamo osservato all'OCT, con una papilla ottica che è questa. Io, quando l'ho fatto vedere più di più una volta a questo caso, devo giurare che questa è la sua papilla ottica e che molti mi dicono che questa non è la sua papilla ottica e questa è la sua papilla ottica. Che cosa voglio dire? Che cosa ci dice questo caso? Questo caso ci dice che a volte la integrazione delle informazioni ci pone di fronte ad una non concordanza completa, che in alcuni casi forse l'OCT, come poi è la base per l'analisi della rima nervosa nello spettrale, se riesce a vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere, l'analisi della rima parte dal presupposto che la valutazione del contorno, del bordo, della contour line e come valutabile oftalmoscopicamente può non coincidere al reale apertura attraverso cui passano le fibre per l'estensione variabile e non visibile oftalmoscopicamente della membrana di Bruch. E qui, seguendo un percorso teorico simile, sembrerebbe l'OCT valutare un'alterazione, un danno che noi oftalmoscopicamente non riusciamo a valutare. Vi posso anche dire che questa immagine, questa fotografia del nervo ottico è abbastanza corrispondente a quello che poi si vede oftalmoscopicamente, a volte la fotografia fa perdere dei dettagli che invece oftalmoscopicamente erano ben visibili, qui invece è abbastanza corrispondente. Altro caso che vi porto all'attenzione, questo è un paziente che fa una prima visita nel 2009, che ha un'ipertensione sistemica, che ha una pressione di 17 all'occhio destro e 18 mm nell'occhio sinistro. Queste sono le papille, la testa del nervo ottico di questo paziente. Sì, probabilmente sono i video dove l'escavazione sembrerebbe un po' accentuata, ma quando poi andiamo a eseguire l'OCT abbiamo conferma che c'è un danno inferiore sia nell'occhio destro che nell'occhio sinistro, questo però è il suo campo visivo. Per cui qui abbiamo una situazione diversa rispetto al quadro precedente, un nervo ottico che forse ci mostra un difetto inferiore, confortato dalla presenza dell'OCT e un campo visivo assolutamente perfetto. Probabilmente questo è un paziente preperimetrico, un paziente che non ha avuto pressioni particolarmente alte e questo paziente ovviamente richiede una valutazione, una gestione nel tempo nel quale a mio avviso il dato funzionale, che rimane il punto di riferimento essenziale per la qualità di vita del paziente, per le decisioni terapeutiche ovviamente, però in questo caso il supporto strutturale, il supporto morfologico, l'analisi morfologica quantitativamente valida ci permette di seguire il percorso di questo paziente andando probabilmente a cogliere eventuali cambiamenti forse prima, forse insieme a ciò che potrà avvenire da un punto di vista funzionale. Altro caso è un paziente che mostra questo aspetto del nervo ottico, quindi dei nervi ottici che mostrano un'alterazione, un'accentuazione dell'escavazione, che viene confermata anche dall'analisi sia della rima che delle fibre, dove il difetto sembra essere a livello delle fibre in voce per i papillari un difetto prevalentemente temporale. Andando a eseguire l'analisi del polo posteriore, questo compare un aspetto un po' particolare, dove il difetto sembra rispettare la linea verticale, quindi con una modalità che non è proprio quella del cosiddetto glaucoma hotspot, non è proprio un modello di danno tipico del paziente glaucomatoso. Alla mappa di deviazione, sia lo studio delle fibre che lo studio delle ceve ganglionari, mostra proprio questa distribuzione del danno con la tendenza a rispettare la linea verticale. Questo è l'occhio sinistro, questo è l'occhio destro, in entrambi i casi c'è questa distribuzione della riduzione degli spessori all'organizzazione del danno che ha un quadro poco indicativo di glaucoma e questo, come detto, anche la mappa di deviazione delle cellule ganglionari conforta questa distribuzione atipica rispetto al glaucoma del danno. Infatti questo è un paziente nel quale è stato diagnosticata una neuromielite ottica. Perché concludo con questo caso, quindi attenzione alla valutazione dei risultati dell'OCT, non tutte le alterazioni, ma lo sappiamo benissimo, non tutto ciò che osserviamo come alterato, non tutto ciò che osserviamo come di ridotto spessore di assottigliato va immediatamente riferito alla presenza del glaucoma, ma va sempre contestualizzato con possibili quadri patologici differenti. per cui concludo riassumendo il concetto di una integrazione delle informazioni al quale l'OCT contribuisce, può contribuire in maniera determinante per arrivare a questa definizione di probabilità a seconda del tipo di informazioni che abbiamo di fronte, perché non lo dimentichiamo mai, in assenza di un singolo reference standard come è la patologia glaucomatosa, come è per una diagnosi multifattoriale, diciamo di integrazione di tutte le informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione. Grazie Emanuele, direi che è stata veramente una lettura molto molto approfondita, molto molto dettagliata. Abbiamo già fatto richiesta, non vedo che ci sono, non mi sembra che ci siano domande in questo momento, nel caso tutti i partecipanti, che ho visto che fortunatamente sono tanti e se ne sono inseriti anche altri durante la tua lettura, le potranno fare via mail direttamente o anche qui sulla chat, poi noi le riferiremo a te. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e sempre molto professionale. Con questo concludiamo la sessione con la Fondazione Bietti, con Francesco e con Emanuele che ci hanno coadiuvato per la parte clinica. Io ti saluto, saluto tutti quanti i partecipanti e ci rivediamo il 9 novembre per la nuova componente di Anterion e segmento anteriore di Heidelberg. Grazie a tutti. Grazie a voi, un saluto.